L'Iceo di Biase nasce questo nuovo movimento Regione Facile Valore Abruzzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che le esperienze civiche che hanno fatto capo a Luciano D'Alfonso nelle ultime elezioni regionali adesso si creano un'organizzazione, un movimento civico che mette insieme tutte queste esperienze che hanno prodotto un risultato interessante insieme il 7,2% e quindi il Presidente D'Alfonso non ha voluto porre termine a questa esperienza ma dare continuità con questo momento civico. Si riparte dunque dal dopo elezioni, gli obiettivi di questa lista civica quali sono? È un movimento civico che mette insieme le due liste civiche che si sono presentate le ultime elezioni ma è quello appunto di dare continuità a questa esperienza perché c'è una grande area fuori al PD che cerca di avere un punto di riferimento. Questo movimento civico può diventare questo punto di riferimento. L'obiettivo è quello di radicarsi sul territorio per fare in modo che questo oltre 7% possa diventare ancora un risultato ancora più consistente. A livello regionale e su Pescara insomma secondo voi quali sono le problematiche? Su cosa bisogna lavorare in particolare? Ma intanto non è solo regione su Pescara. Questa è un'operazione che coinvolge le quattro province. A livello di consiglio regionale abbiamo due consiglieri regionali che sono stati eletti con Regione Facile, fanno riferimento a questo momento civico e poi andremo a radicarci, ad organizzarci nelle quattro province con dei portavoce che nei prossimi giorni andremo a indicare.